cari amici bentornati alle 3 2017 io sono valone qui con me c'è francesco che è poi tra l'altro la nostra cavia in questi giorni avrete visto sicuramente un sacco di video con la sua storia con la storia del suo primo e 3 ti sta divertendo a proposito tantissimo soprattutto a battere la gente a fifa perfetto per facendo sempre la stessa mossa mi raccomando come te e una delle cose tra l'altro che avevi più interesse a scoprire era proprio destiny 2 giusto esattamente giocandoci dal lancio sono proprio fan di questo gioco e non vedevo l'ora di provare il nuovo capitolo diciamo che più che fan la parola da utilizzare forse è drogato ok perfetto purtroppo non è che abbiamo fatto una prova per scoprire destiny 2 in generale quella l'ha fatta per noi il nostro ottimo zampini qualche settimana fa in occasione proprio dell'evento di reveal del gioco però noi abbiamo visto una cosa molto interessante ovvero come gira destiny 2 su pc con una configurazione mostruosa anche perché eravamo allo stand di nvidia era nvidia a insomma tenerci a farci vedere questa cosa sulla sua 1080 ti una delle schede ovviamente più potenti e costose dell'universo forse la più potente esatto e il gioco girava in 4k 60 fps con tutti i dettagli attivi ed era una io lo definisco in modo tecnico una figata spaziale tu è una gioia per gli occhi veramente rispetto al capitolo precedente soprattutto per play 4 cielo l'ona c'è proprio lo sovrasta soprattutto negli effetti particellari e nei dettagli delle super delle sparatorie dei nemici soprattutto i nemici sono molto più dettagliati e generale proprio un upgrade ma proprio app 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 soprattutto nel 4k certo poi c'è da dire che chiaramente sarà un po meglio sicuramente graficamente anche il secondo capitolo su console rispetto alle versioni precedenti sul console ma l'introduzione della versione pc ovviamente fa fare un salto ulteriore per chi ha la fortuna di potersi permettere un hardware così potente da poterlo far da poter farlo girare in quel modo quello che possiamo dire che sicuramente ne vale la pena per gli occhi poi chiaramente dipende dal portafoglio di ciascuno il gioco in sé invece come l'hai trovato da appassionato di destini e soprattutto immediato e la mi è piaciuto tantissimo il fatto di aver due primarie e la invece poi la speciale come terza perché rende il gioco molto più frenetico molto più veloce perché una volta una volta finita la primaria puoi cambiare subito la successiva in un nanosecondo e quindi aggiunge molta varietà nella stessa missione varietà che è sempre presente in destini però soprattutto avendo due primarie uno anche il fatto di non mettere in pausa per cambiare primaria che l'arma principale che si usa durante un assalto una missione è molto molto ammazza proprio i tempi di gioco e ti aiuta però era veramente tantissimo e non le rende più frenetico perché tu finisci poi ricambi poi ricambi subito è veramente veramente godibile ti ha lasciato l'aver visto destini 2 in azione su pc due cose ti chiedo la voglia di giocare a destini 2 e immagino che la risposta sia sì e l'intenzione magari di farlo su pc o rimani comunque fedele al tuo giocarlo su console magari perché hai gli amici lì però quanta voglia avresti di giocarci in quel modo la voglia tantissima come mi ha lasciato direi povero ti fa sentire povero ti fa sentire molto da voglio sottolineare anche secondo me è molto figo anche il sistema ovviamente di puntamento il gunplay di destini già che era figo su console in destini 1 sicuramente sarà fantastico anche perché giustamente non è che sia stato toccato chissà quanto perché quello funzionava benissimo sarà fantastico anche in destini 2 con mouse e tastiera con mouse soprattutto funziona meravigliosamente sì 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 il feeling è da pc in fps sul pc è sempre meglio su console però quando esce destini 2 6 8 settembre non mi ricordo nei primi giorni di settembre per pc ps4 ovviamente con ottimizzazioni per ps4 per su ps4 xbox one con ottimizzazioni per pro e x ma non i 60 fps quelli solo su pc e anche come abbiamo visto se sia una scheda adeguata anche accompagnati dai 4k da effetti grafici di altissimo livello va bene vuoi fare un augurio a tutti i giocatori di destini per il futuro no vi auguro un buon destini 2 soprattutto ai miei amici che cui gioco sempre ragazzi è una figata già preordinato non delude va bene caraibi caraibi